Ci sono molte storie da raccontare sulla fondazione del nostro Stato federale moderno. Una di queste è quella di Ulrich Oxenwein. Figlio di un oste del cantone di Berna, studiò diritto e fu attivo in politica per i radicali. Fu tra l'altro eletto nel Consiglio di Stato bernese e ricoprì alte cariche militari. Dopo la guerra del Sonderwund del 1847, presidete la commissione incaricata di ridicere una Costituzione federale. Sarà il ruolo della sua vita. Il 17 febbraio 1848 diede inizio alla prima seduta di questa commissione, composta da 23 membri. Dopo soli 51 giorni, la nuova Costituzione federale era pronta. Un capolavoro politico in perfetto equilibrio tra idee centraliste e federaliste, ottenuto grazie alla sua abilità negoziale e che ancora oggi costituisce il fondamento della Svizzera liberale. La Costituzione federale fu accettata dalla maggioranza dei cantoni e dalla dieta federale. Il 12 settembre 1848 fu accettata ufficialmente. La Svizzera divenne così la prima democrazia stabile in Europa e in poche settimane Oxenbein divenne consigliere nazionale, presidente del Consiglio nazionale e consigliere federale. Tuttavia, la sua ascesa si arrestò bruscamente pochi anni dopo. Essendo un moderato, per sé l'appoggio dei radicali e nel 1854 non fu rieletto in Consiglio federale. Oxenbein, 43 anni, padre di otto fili, aveva bisogno di soldi e divenne così un generale al servizio della Francia. Il suo successivo ritorno in politica come conservatore falli. Su di lui calò il sipario. Nel 1890 morì nella sua tenuta di campagna vicino al lago di Bienna. Solo un secolo dopo venne riscoperto come forza trenante nella fondazione della Svizzera moderna. Nel 2023 la Costituzione federale svizzera festeggerà il 175 anni. Sono lieta di poter celebare questo anniversario storico con voi. La storia del periodo di fondazione dello Stato federale svizzero è incredibile. Fu necessario molto lavoro pionieristico. Il primo Parlamento iniziò i lavori il 6 novembre 1848. Il Consiglio nazionale, composto da 111 uomini, si riunì nel vecchio casino di Berna. L'attività era disorganizzata, le discussioni lunghe e confuse. I consiglieri sedevano vicini, l'area era cattiva, l'acustica pessima. Il secondo giorno l'oscurità costrinse a interrompere le deliberazioni. Il terzo giorno il Consiglio nazionale si spostò nella sede del municipio di Berna. Le discussioni erano animate, anche feroci. Il colonnello ticinese Luvini e il colonnello zurichese Benz si scontrarono a tal punto che si misero a duelare. Lo zurichese ne uscì gravemente ferito. Il nuovo sistema politico ha avuto bisogno di tempo per diventare quello che è oggi. Sofisticato, affidabile e sempre alla ricerca di un consenso pacificatore. Dies è la Geschichte eines neuen Ortes der Macht. Im Jahr 1848 entscheidet sich die Schweiz für das Zweikammersystem. Das Parlament besteht aus zwei gleichberechtigten Kammern, von denen eine das Volk und die andere die Kantone vertritt. Die Schweizer blickten argwöhnisch auf den Ständerat. Er erinnert sie an die gerade erst abgeschaffte Tagsatzung. Natürlich stimmen die Standesvertreter nicht mehr nach den Anweisungen ihres Kantons ab. Aber das Volk misst den Abgeordneten keine grosse Selbstbestimmung und Durchsetzungskraft zu. Dagegen geniesst der Nationalrat eine sehr gute Presse. Diese neue Kammer wird als der wahre Garant für die Interessen des Volkes angesehen. Vorbild ist eine junge, vielversprechende Demokratie, die USA. Aber auch bei den Politikern ist der Nationalrat beliebt. Im Ständerat herrscht dagegen ein ständiges Hin und Her. Die Kantone schickten ihre Vertreter manchmal nur für eine einzige Session nach Bundesbern. Zudem ist es der Nationalrat, der sich die wichtigen Geschäfte zuerst unter den Nagel reisst. Heute haben National- und Ständerat ihr Gleichgewicht gefunden. Manche sagen sogar, dass der Ständerat den grössten Einfluss ausübt. Jetzt hat erorno, dass der Ständerat den liegt. Grazie a tutti